Spaghetti alla cenere Spaghetti alla cenere? Ora ti faccio consulare Stai venuto, che ora vengo per consulare Zia Teresa, buongiorno Ciao Salvatore O lì venite? Sì Non è che l'ho vendita io Sui social Sì, e poi si chiama Spaghetti alla cenere Perché si chiama Spaghetti alla cenere? Perché poi ti faccio vedere Ok, ok Ho snonciolato tutte le olive Vieni a pensare, ti faccio vedere Zia Teresa, ci siamo ai fornelli Ecco qua Mettiamo un po' d'olio Non molto Perché è un piatto Dobbiamo fare solo un piatto, lo abbiamo fatto solo a me Facciamolo solo al porno E mettiamo olive Ecco qua Oliva in padella Se avete preso solo la metà, l'altra metà sta qui Ma questa metà ti puoi mettere al forno Al forno? Perché? Perché faccio bene lo scatto Croccanti? Faccio croccanti e poi faccio la cenere Ah la cenere con le olive si fa picciò alla cenere Guarda, vedi? Andiamo al forno Quanto tempo c'è? Un pochissimo, 3-4 minuti 3-4 minuti al forno si fanno croccanti Nel frattempo Nel frattempo il nostro olio con l'olive e l'aglio Ecco qua Alziamo l'aglio Eh sì, lo so finire dopo ti disturbo l'aglio Aspettiamo che bolle l'acqua e tu vengono pure il spaghetti Perfetto, veloce 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 L'acqua bolle Mettiamo anche un po' di sal Saliamo l'acqua Ecco qua Spaghetti Vermicelli Vermicelli Eccoli qua Aspettiamo che si cuocino e completiamo il nostro succhetto Salato Ecco qua l'olive L'abbiamo fatta tanto diamo in due funghi Allora poi facciamo fruttare un po' E poi ti metto proprio il spaghetti E sficcioliamo che mangiano? Sficcioliamo che mangiano Sapato? I spaghetti sono quasi pronti Un po' che vanno Panna nelle olive Sì E poi ci vanno spaghetti Sì Guarda ciò che ti mangi Vediamo, vediamo E poi ci diamo la cenere La cenere La cenere Ma sai cazzo? Si è andata la cenere Spaghetti Solo per me Eccoli qua Un po' d'acqua Acqua di cottura? Sì, sì Ecco qua Ecco qua Ecco qua Facciamo terminare la cottura degli spaghetti Nel nostro succhetto E poi potremo la cenere Ecco qua Un po' di pecorino Pecorino Una cascata di pecorino Ecco qua Facciamo amalgamare tutto Sia Teresa Sia Teresa andiamo ad impiattare Ecco qua Sapato Spaghetti alla cenere Spaghetti alla cenere Ecco qua Spaghetti alla cenere Come era? Buon appetito Andiamo all'assaggio signore Se vogliamo vedere bene Guarda Ecco qua Spaghetti alla cenere Spaghetti alla cenere Spaghetti alla cenere